Parlo in italiano, proprio in inglese, mi so poco a poco. Vi raccomandiamo il nostro driver, in quanto ci ha fatto vivere, era una bellissima esperienza, portandoci appunto in giro per il Sri Lanka, e ci ha fatto vedere anche posti che non erano del nostro programma. E niente, la raccomandiamo. No, 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 no.